Il sottosegretario di Stato all'istruzione Davide Faraone è atteso domani pomeriggio alla scuola elementare Don Posco di Favara, sarà accompagnato anche nei vicini locali dell'ex scuola media statale Antonio Mendola. A dircelo è l'assessore comunale all'istruzione Sara Chianetta su specifica nostra domanda. Durante una conversazione telefonica con la nostra redazione, Chianetta ci ha detto che il sottosegretario sarà accompagnato anche nel vicino edificio dichiarato inagibile e depredato e vandalizzato nel tempo. Oltre quindi a verificare lo stato di salute del plesso scolastico Don Bosco, dove lo scorso 9 ottobre, a causa del crollo parziale della controsoffittatura di un'aula, si è sfiorata la tragedia, l'autorevole esponente del governo Renzi avrà l'opportunità di osservare quello che è stato fatto all'interno della Mendola. La visita dell'onorevole Faraone a Favara è vista da molti come una passerella politica che avviene dopo un evento spiacevole verificatosi in una scuola pubblica, ma anche alla vigilia di un importante impegno elettorale per la città di Favara. Per questo motivo al sottosegretario all'istruzione i cittadini favaresi chiedono non promesse ma impegni concreti per restituire alla città l'istituto scolastico che da tutti era considerato fiore all'occhiello della comunità, ovvero la prestigiosa scuola media Barone Mendola di Via dei Mille.